Funivie Molise negli anni ha accumulato un debito di circa 3 milioni e mezzo di euro. Tra i creditori troviamo Fin Molise, il comune di San Massimo, l'agenzia delle entrate, vari professionisti che nel tempo si sono succeduti, fornitori eccetera. È così accaduto che alcuni beni di proprietà di Funivie siano finiti all'asta, porzioni di impianti di risalita, terreni su cui insistono gli impianti, fino anche un rifugio. Totale della base d'asta circa 2 milioni e mezzo di euro, asta che sarebbe programmata per il 20 dicembre presso il Tribunale di Campobasso. Probabilmente però la procedura non avrà luogo, perché la Regione Molise è già corsa ai ripari, avviando il concordato preventivo finalizzato al ripianamento del debito attraverso una cospicua iniezione di liquidità nelle casse societarie. Ed il concordato dovrebbe portare alla sospensione delle esecuzioni immobiliari. La prossima settimana in programma un'assemblea dei soci per deliberare il concordato finalizzato alla sospensione dell'asta. Parteciperà anche il governatore del Molise, o un suo delegato, in qualità di socio di maggioranza. Ad onor del vero c'è da aggiungere che il Comune di San Massimo non avrebbe potuto agire diversamente. L'aver reclamato il credito vantato nei confronti di Funivie Molise è un atto dovuto per tutelare le casse comunali. L'ente avrebbe infatti rischiato una aggressione da parte della Corte dei Conti per danno erariale. L'intera vicenda comunque non va ad inficiare la stagione scistica, poiché la società che attualmente gestisce gli impianti, la Matese Schi, è pronta a partire ed ha già avviato la prevendita dei pass neve permettendo.